Dimenticare la scoffitta di sette giorni fa contro le Trasteveri, di prendersi il primo posto. Questo è il duplice obiettivo di quest'oggi dell'Atletico Terme di Fiuggi, che ospita la Re Canatese nel big match del nono turno. Una squadra, quella marchigiana, costruita per arrivare come i Termali in Serie C. Miglior attacco con 18 reti realizzate e vogliosa di prendersi il primo posto, qualora dovesse vincere anche il recupero, contro il Castelnuovo Pomano. Dallo stadio Capo Iprati di Fiuggi, Atletico Terme Fiuggi, Re Canatese. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno, è la nonna giornata del girone F di Serie D, di fronte le formazioni di Fabrizio Romondini e di Giovanni Pagliari. Fischia Peletti, è cominciata. Tocco un orizzontale per Gomez che va subito al tiro, Meiri, la blocca a terra. Tutta la Re Canatese a difendere, parte Papazerio, anzi Ficara, perdon, col sinistro. Eccolo Papazerio che può ordinarsi col destro. Pallone fuori, non di molto, la risposta dell'Atletico Terme Fiuggi è l'undicesimo. Il secondo tempo contro il Castelnuovo Pomano. Intanto attenzione al tiro, dalla distanza, è un gol spettacolare di Quacquarelli all'incrocio dei pali. La Re Canatese a freddo, passa in vantaggio dopo 12 minuti. Sorpreso Meiri, ma è un gol di pregevolissima fattura. Quello di Quacquarelli il secondo in campionato. 1-0 per i marchigiani al Capo Iprati. Ha pescato l'incrocio. Occhio al destro, ancora la parata di Meiri con difficoltà. Rincorsa corta per Senigalliesi che va col destro direttamente sul muro. Ancora Senigalliesi, grande finta di sbaffo che se ne va col sinistro. Larga destra per Senigalliesi che punta a Turso che ci ha monito. Un altro passo Senigalliesi, entra in aria. Tocco per sbaffo, poi Minella. In posizione giudicata regolare, pallone largo, ma altra occasione colossale per la Re Canatese. Anche Rizzitelli a dare fastidio. Arriva il destro direttamente verso la porta. L'ottima parata di Amadio sul tentativo di potenza. Eccoci tornati in diretta dal centro sportivo Capo Iprati di Fiugi. Per il secondo tempo di Atletico Terme Fiugi, Re Canatese si riparte dall'1-0 per i marchigiani. Primo fischio di Peletti. Si porta il pallone sul destro, poi la mette al limite per Gomez che fa col destro. Altra grande conclusione e altra grande parata di Ahmed Meiri. Cross verso il centro, Fall, il velo, forgione col destro. La traversa dell'Atletico Terme Fiugi, forse la prima vera occasione per la squadra di Romondini. Si sta avvicinando la lavagnetta, doppio cambio anche per i marchigiani tra poco. Arriva il cross verso Amadio che esce bene, poi si perde il pallone e Fall la mette dentro. Il pareggio dell'Atletico Terme Fiugi con il quinto gol in campionato di Ahmed Fall. Errore clamoroso di Remo Amadio e pareggio immediato per la squadra di Romondini. 1-1. Cross verso Fall che viene anticipato da Somma. Ballone che rimane in aria, c'è la spinta forse. Poi Forgione si coordina col destro. Recanatese che attacca, Minicucci riesce a passare col rimpallo. Tocco fuori per Raparo, nella zona tiro Raparo ci pensa per un attimo la finta. Ancora Raparo che va col sinistro. Rimessa affidata a Somma direttamente verso Defendi ma non c'è più tempo. Al Capo Iprati finisce 1-1 tra Fiugi e Recanatese al gol iniziale. Bellissimo di Quacquarelli risponde. Nel finale, nel secondo tempo, il gol di Fall. 1-1 e Recanatese che mantiene un punto di vantaggio sul Fiugi in attesa di recuperare la gara contro il Vomano. Il secondo tempo di Castelnuovo Vomano. In questo momento il Trastevere è primo in classifica. Quota 21 punti. Dallo stadio Capo Iprati di Fiugi è davvero tutto. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno.